Sull'altra domanda concerne la sostenibilità del debito. Prima, con gli occhi di ieri, come dicevo prima, la sostenibilità del debito veniva misurata sulla base dei tassi di interesse e della capacità di, come si dice con gli economisti, di servire il debito. A un certo punto, la domanda che si pongono tutti è, ma ce la fa il Paese, ce la fa questo Stato a pagarmi gli interessi sul debito che io ho comprato? Oggi questa domanda non si fa più. Non so quanto durerà, probabilmente ancora parecchio tempo, ma per il momento non si fa, perché i tassi sono appunto bassi. Vuol dire che ogni debito è sostenibile? No. Vuol dire che la domanda diventa, ce la farà questo Paese a crescere abbastanza per poter poi un giorno ripagare il debito che sta facendo oggi? Quindi è la crescita il criterio principale, anche a cui tra l'altro guardano tutti coloro che danno i rating al debito oggi. La crescita è il modello di crescita, di sviluppo del Paese, della crescita di essere sostenibile, perché se non fosse sostenibile, allora si dice a un certo punto questo Paese non ce la farà. Quindi di essere una crescita sostenibile. E questa, dicevo, è la domanda, è la grandezza a cui si guarda di più nei mercati oggi. E anche non solo nei mercati. Grazie. Grazie. Grazie.